Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti quest'oggi nella prima parte della nostra guida a Pokémon Random Smeraldo, Emerald, perché in inglese è il gioco Vi spiego subito un po' il tutto, perché sicuramente sarete un po' confusi, un po' presi alla sprovvista Allora, ho deciso che la guida Pokémon Y non la continuo più, perché non mi prendeva, non mi piaceva E veramente, negli ultimi tre episodi che avevo registrato, non so com'è mai, ma i miei Pokémon cadevano tutti sconfitti da se soli Missavano sempre gli attacchi, gli altri facevano tutti brutti colpi, non mi ha preso E quindi ho deciso che appena uscirà Pokémon Rubino, qualche giorno dopo, insomma, andrò a comprarlo Tirerò dietro Pokémon Y, perché non lo voglio nemmeno, e prenderò Pokémon Rubino, quello nuovo, e ci farò appunto una guida Però dico, cavolo, non posso lasciare il canale senza video Allora, cosa faccio? Ho trovato questo gioco, che praticamente è una versione, potremmo dire, per metà hackerata Di Pokémon Smeraldo Ci sono i Pokémon Random, quindi non sappiamo chi troviamo, non sappiamo quali sono gli starter Non sappiamo né quello né quell'altro Anzi, io ora l'ho visto per provare a vedere se funzionava la ROM E ho visto che ce n'era tre, però non so se magari ci sono sempre oppure no E tecnicamente, però, io la voglio trasformare in una Random Nuzlocke Nuzlocke, sì, Nuzlocke Allora, praticamente funziona così Che noi avremo il nostro Pokémon E ne potremmo catturare uno ogni volta che andiamo in un nuovo percorso Dovremmo catturare il primo che ci capita Se lo sconfiggiamo non possiamo più catturare un Pokémon in quel preciso opposto E se vengono sconfitti i Pokémon in battaglia Io posso usare appunto strumenti per non farli morire Però se vengono sconfitti vengono mandati nel box che rinominerò Paradiso Heaven Perché appunto il gioco funziona così Di solito o si liberano o si mandano un Paradiso Vedrò insomma quella che mi ritorna meglio Quindi spero che abbiate capito le regole Noi abbiamo un Pokémon Ovviamente proseguiremo con tutta la storia Ogni volta che andremo in un nuovo percorso Possiamo catturare il nuovo Pokémon Lo possiamo allenare o lasciarlo nel box Se ne abbiamo già sei E dopodiché quando viene sconfitto uno Noi possiamo riscegliere un altro Quello sconfitto viene mandato al Paradiso O liberato, eccetera, eccetera E si ricomincia Quindi spero che Mi possa piacere Questo tipo di guida Una cosa un pochino differente Nuova Non so se magari si è mai vista o altro Allora, ovviamente io utilizzerò talvolta la barra spaziatrice Per velocizzare Tipo qua quando parlo al Professor Berci Tanto oramai sappiamo tutti quello che dice Voglio utilizzare la barra spaziatrice Anche per Boh, cos'are? Per mandare avanti Un po' il Tanto il canabai Mi chiamo Randex Sarebbe Random Exit 88 All'inglese Così a caso Voglio mandare anche un po' avanti Insomma Tanto la guida Pokémon Smeralda L'abbiamo già fatta Tanto per avere qualcosa di differente Allora usciamo dal nostro furgone Dal nostro van Perché ovviamente tutti i bambini del Giappone Quando vengono trasferiti Vengono trasferiti insieme alle scatole Scatole messe a caso Si possono muovere Si possono uccidere E troviamo nostra madre Che Tempo il coso è arrivato Il camion Perché ovviamente non ci sono strade Non ci sono macchine Però c'è soltanto un camion Appena arriviamo Ci ospiterà Ci farà vedere la nostra nuova casa E ci dice di andare su di sopra Perché il nostro padre ci ha regalato un orologio Ci sono i Vigoroth Che stanno spostando Questo si sta Non lo so Credo che si stia facendo il televisore O si stia masturbando davanti alla televisione Ma va bene lo stesso Allora saliamo E andiamo a modificare l'orario Ovviamente io non lo modifico Perché non conosco l'orario con le lancette Andiamo a ritirare Una nostra pozione Nel computer La nostra unica stanza Di tutto il coso La madre non dorme Dorme nel tavolo E una volta scesi giù Ci farà vedere che il nostro padre È diventato capo l'estero di petalivoli Eccetera eccetera Usciamo E siamo a Little Root Town Ovvero Borgo Foglianova Borgo Foglianova Little Root No Non me ne ricordo come si chiama Vabbè Comunque si Andiamo alla casa della nostra vicina All'interno Nel secondo piano Troviamo una Pokeball E se ci richiama arriverà immediatamente Lei Che è May Che ci dirà che la Pokeball è la sua Di andare a cercare suo padre Che è il professor Burge Eccetera eccetera Allora ho scoperto adesso Che il microfono Quello che utilizzavo di solito Mi faceva sempre male Perché io lo tenevo Nel verso giusto E mi faceva male alle orecchie Io ho un Logitech HD Boh Non so come si chiama Intanto lo sto rispostando E mi faceva malissimo alle orecchie Adesso lo sto tenendo all'incontrario E non mi fa male Forse era la cosa giusta da fare Allora Ovviamente lui non c'è Al laboratorio Quindi dobbiamo salire su Parlando con questa ragazzina Ci dirà che qualcuno viene aggredito Se vi ricordate Nelle precedenti versioni Non mi ricordo lo Smeraldo Però di solito era un Puciena In questo caso Possiamo Ah ecco Cliccare sulla borsa E troviamo Un Kingdra Troviamo un Metacross E troviamo anche un Lunatone Io però voglio Kingdra A me piace tantissimo Oh Ma come Con un Zigzagoon Si è formato in un Espeon Ma andiamo a Kingdra A livello 5 E utilizziamo Bubble Che è bolla Vedete il gioco è tutto in inglese Quindi non mi chiedete Che Di tradurlo Perché è divertente così Ok Perfetto Kingdra Riceve un po' di punti di esperienza Ed inizia Appunto la nostra guida A Pokemon Random Emerald Possiamo Ah si Dovremmo dare anche un soprannome Al Al coso Come si chiama Al nostro Pokemon E lo Possiamo utilizzare Alimenti E Il nostro Pokemon Dovrà essere appunto Chiamato Come si dice Con i nomi degli alimenti Possiamo chiamarlo Boh Non mi viene in mente Niente adesso Possiamo chiamarlo Boh Con i nomi della cioccolata Questo si chiama Nutella Bah Proprio così random Nutella Bene Perfetto Allora Dai Facciamo sì Ok Grazie Adesso dobbiamo andare a trovare May May che è appunto La nostra vicina Guardiamo nel percorso 1 Ovviamente noi non possiamo catturare Nessun Pokemon Però Ma cargo Subito così Random Ma cargo che L'ho utilizzato Per una mia guida Una speedrun Tipo che ho fatto Senza registrare Senza niente Qui si trova soltanto Ma cargo E l'ho utilizzato E' veramente scandaloso Perché ha un attacco speciale Veramente forte Qui siamo a Doll del Town Sulla rosa E Però devo dire Che è veramente scarso Allora Saliamo qua su Così a caso Attenzione Perché Noi troviamo Uno Swampert Messo così Proprio Random Come si dice 90 punti Attenzione Perché Nutella Sare a livello 7 E vediamo poi Un Marshtomp Wow Gunzo Spettacolare Questa guida Questa guida Mi sta prendendo Allora Parliamo un po' Con May E ci Dovremo sconfiggere Mai lo ticca A livello 5 Allora Usiamo Full Misguardo Ok E adesso Water Gun Ovviamente Siamo un po' In svantaggio Perché Boh Eeeh Noi non gli stiamo togliendo Praticamente niente E Utilizza Warp Che appunto Sarebbe tipo Avvolgibotta Se non mi sbaglio Ok Perfetto Proviamo con Bolla Ma Bolla Andrebbe togliere di meno Anche se Gli fa callare la velocità Infatti Vediamo un po' Anzi forse Oh Colpo critico Critical hit Brutto colpo Oh Un altro Attenzione Nutella Si porta in avanti Ragazzi Un po' Ce l'ha il becco Da Nutella Kigitra Attenzione perché Ehm Inizia Forse dovremmo usare Una pozione Iiii Dai 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 Se no Veramente Ci ha finita La La guida A Pokémon Emerald Nuzluk È Random Emerald Un titolo Che su youtube Mi ci vorrà Due giorni Per scriverlo E abbiamo sconfitto Mailotic Accipigna 228 punti Nutella sale Già a livello 8 Ci dice di tornare A casa Di suo pace Facciamo una cappettina Al Pokémon Center Ok Tutto a dritta Verso il percorso 101 E poi Little Route Village Town Ok Parliamo di nuovo Con il professor Verge Che ci darà Il Pokédex Ci darà Di andare In giro Per il mondo Catturare Lanciare La nostra Sfera Poké Affrontare Mille battaglie Anche se Comunque sia Per chi ha letto Il fumetto Il vero originale Manga Quello originale Il protagonista Che sarebbe Appunto Ruby Quello che sto utilizzando Io si chiama Ruby in realtà Sarebbe Un allenatore Il figlio Di Norman Al punto Che però Lui Gli interessa Primo Pokémon No Primo Pokémon E Don McCargo Appunto Chi l'avrebbe mai detto Allora Però non posso usare Bolla Perché se no Lo sconfigo con un colpo Usiamo una Pokémon Subito Niente È un po' Un casino Perché Non lo posso Indebolire Quindi molto probabilmente Ma è soltanto Ah bene Ha soltanto Sbadiglio Ah no Anche Brasciare Ok E io devo usare Bubble Perché se no Bene Il primo Pokémon Nel percorso 101 Non lo catturiamo Perché c'è soltanto McCargo Ah no C'era anche Sentret Cavolo Ora iniziano ad arrivare Comunque sia Praticamente Il nostro personaggio Sarebbe Ruby Ed è quello Che è incaricato Diciamo Dal creatore Dei Pokémon Di collezionare Tutti i fiocchi Del mondo Mentre l'altra Che sarebbe Sapphire È l'incaricata Di vincere Tutte le medaglie Del Del mondo Allora Prendiamo un po' di pozioni Qui ci servono Un po' di Pokéball Perché sarà difficile Catturare alla prima Un antidoto Un paralizzante E niente Non ha sveglia niente Allora Andiamo subito Nel percorso 103 Vediamo Quassù invece Chi sarà il nostro Fortunato Se qualcuno Un Goldh A livello 4 Incredibile Facciamo tutti Pokémon d'acqua Ragazzi È una È una Proprio Una serie di Pokémon D'acqua qua L'acqua L'acqua alla gola Proprio Ok Mandiamo Una Pokéball E vediamo se Esatto Goldhack È catturato Lo chiameremo Ferrero C'ha la La faccia un po' Da Ferrero 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 Così Poi dopo ci sarà Kinder Ferrero Ferrero Rosce Kinder Ueno Twix Max Tutti Così Allora Curiamo La nostra squadra Formata Un Kigdra Ed un Goldhack Andiamo nel percorso 102 Random di nuovo Però non qui Prima dobbiamo sfrontare Secondo me è questa Questa erba qua giù Che porta Porta bene Attenzione perché Il nostro Kigdra Non so perché Ho picciato Un altro tasto Volevo Premere Watergun Invece ho sbagliato Ok Perfetto Mamma mia Nutella È veramente bestiale Vediamo Al random Chi troviamo Sloking Incredibile Non ci lasciamo Dai Pokémon D'acqua Ragazzi Non ci schiodiamo Da questo elemento Forse l'acqua Sarà un po' L'elemento fondamentale Di questa Di questa guida Incredibile Ragazzi Usa Maledizione Bene Allora Vai con Pokéball Vediamo Uh No niente Uh Facciamo un'altra bolla Dai dai Sloking Devi Devi diventare Della mia squadra Sloking Ovviamente Sì Catturato Abbiamo anche Sloking Che chiameremo Stavolta Bueno Perché Ah no Aspetta Vediamo Eh Non ci sta Lui Vediamo Un punto Che sarebbe Tipo Kinder Bueno Bu E No Vai Kinder Bueno Catturato Andiamo a curare La nostra Velocemente Squadra La nostra Velocemente Squadra Non la nostra Squadra Velocemente La nostra Velocemente Squadra Ogni tanto Credo che Allenerò Magari la squadra Fuori video Perché Sennò Veramente Sarebbe un po' Non so Eh i Pokémon Poi come sono Di livello Ma insomma Un Pinsir Un Pinsir Incredibile Questo bambino Un Pinsir Pinsir Pokémon Asasino Comunque sia Nutella Sare a livello 9 E manderà Un Graveler Però Qui dobbiamo Allenare I nostri Pokémon Tipo Kinder Bueno Che ha Yown Che è ovvero Sbadiglio Lo facciamo Andormentare Ma diamo Ferrero Che mi sembra Che ha Pistolacqua Se non mi sbaglio No Water Spot Eh No Non ce l'ha Allora Nutella Almeno L'alleniamo Tutti e tre Il nostro Kickdra Usa Water Gun Ovviamente È super Efficace E Kinder Bueno Sare a livello 4 Perfetto Allora Saliamo Quassù C'è un altro Allenatore È un Victreebel Random Incredibile Ragazzi Non possiamo Catturarlo Ok Grazie Affrontiamo Quest'altro Bullo Che sarà Gennone Invece che WV L'unico Pokémon Un pochino Più alverso Rispetto a Tutti gli altri Che abbiamo Trovato Perché Veramente Da Victreebel Makargo Swampert Ci ammazza Mashtomp Usiamo Yon Di nuovo Lo facciamo Addormentare Usiamo Azione Uh Grande Un colpo Critico Di nuovo Azione Di nuovo Azione Di nuovo Azione Di nuovo No Dai Di nuovo Azione Sì Ok Kinder Buono Solo A livello 5 Perfetto Allora Qua dobbiamo Prendere Queste due Bacche Bacca Orange E la Bacca Peccia 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 È bacca Pesca No Boh Non mi ricordo Macco Questo è sempre Lo stesso Percorso Quindi Niente No Io volevo Espeon Dai Che percorso Scusa 102 L'abbiamo già trovato Peccato Cavolo Io volevo Espeon Però Vabbè Affrontiamo Questo allenatore Poi Credo che la prima parte Si possa Terminare qua Vedo un po' Da quanto Da quanto Stiamo registrando Non vorrei magari Dilungarmi Anzi Mi piacerebbe Dilungarmi Farle un po' più lunghe Le parti Vedrò un po' Nutella Sale a livello 10 Non ho visto Che Pokémon Manda Quindi Mandiamo Ferrero Spinda Usiamo Disable Vai Perfetto Non credo Che ci possa Attaccare Esatto Però aspetta Mandiamo Kidra Perché Struggle Che sarebbe Tipo Scontro Ci toglie un po' Quindi Eccolo Ferrero Sale a livello 5 Incredibile Ora Guardo un po' Da quanto Ok Sono tipo 15 minuti Di video Quindi Credo che La parte La prima parte La terminiamo qua Arriviamo Petalipoli Petalburg City La prima parte Della nostra Random Nazlook Pokémon Emerald Version Question Walkthrough Gameplay Termina qua Come al solito Vi dico Votate Commentate Iscrivetevi Un ciao Da S88 Ciao ragazzi